Emergenza coronavirus, processati 312 tamponi, 16 nuovi casi, ma 15 provengono da una casa di riposo di San Giorgio Lucano, che ha già isolato ospiti e operatori su un unico piano. Vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione in ogni azienda, a chiederlo con una lettera inviata ai prefetti di potenza in Matera, CGL Cislewil. Dopo essere stata tra le prime regioni a toccare il contagio zero, secondo uno studio americano, la Basilicata tra una settimana vedrà interrompersi anche la drammatica sequenza di decessi legati al coronavirus. E l'emergenza sanitaria mette a rischio la campagna del pomodoro nell'Alto Bradano, a lanciare l'allarme la Coldiretti, che presenta una piattaforma per incrociare domanda e offerta. Il ciclismo sposta le date del calendario, slittano tour e giro d'Italia, ed ecco come potrebbero cambiare i programmi di Domenico Pozzovivo. Amici e amiche della Nuova TV, buon pomeriggio, ben ritrovati in studio per l'appuntamento informativo dalla Basilicata. In apertura c'è sempre la pandemia da coronavirus, 16 nuovi casi positivi in Basilicata, 15 trovati in una casa di riposo a San Giorgio Lucano su persone asintomatiche. Risale così il numero dei contagiati a quota 273, ma per tutti i dettagli in servizio di Michelangelo Russo. Confermati 16 casi che erano emersi ieri sera, 15 riguardano la casa di riposo di San Giorgio Lucano, dove sono stati prelevati 36 tamponi e sono stati trovati positivi 3 operatori e 12 decenti, grazie alla specifica attività di controllo in corso in tutte le residenze sanitarie assistenziali disposte dalla Task Force della Regione Basilicata. Stanno tutti bene gli ultraottantenni che hanno contratto il virus, nel senso che non accusano alcun sintomo. I tre lavoratori trascorreranno il periodo di isolamento nelle proprie abitazioni, due di loro risiedono a Senise e Rotondella, mentre i degenti restano nella struttura residenziale accompagnati al secondo piano per separarli dai cinque coetanei risultati invece negativi. Un brutto colpo alle speranze di quanti speravano dopo una tregua durata praticamente 48 ore che il peggio fosse ormai passato. Primo caso inoltre anche a Scanzano Ionico. Per il resto gli altri 296 test esaminati hanno dato tutti esito negativo, anche quelli effettuati nella casa di riposo Villa Anna di Matera. Tre i nuovi pazienti dichiarati guariti, 41 quelli negativi dall'inizio della pandemia a seguito del doppio tampone di verifica. Aggiornato anche il numero delle vittime dopo il decesso del 78enne materano al Madonna delle Grazie, 23 in totale lugani quindi che non ce l'hanno fatta. Il numero dei contagiati attuali ammonta 273, 69 invece i ricoverati, solo 9 i pazienti più gravi e per questo motivo tenuti sotto stretta osservazione in terapia intensiva. Intanto il Presidente della Regione Basilicata Bardi ieri ha emanato l'ordinanza numero 18 che prevede la chiusura obbligatoria sabato 25, domenica 26 aprile, venerdì 1 maggio e domenica 3 maggio delle attività commerciali di vendita al dettaglio non sospese, escluse edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rispettando le distanze di sicurezza e le norme igienico-sanitarie sono consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono con consegna a domicilio del cliente. Per quanto riguarda invece la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e di vestiti per bambini e neonati è consentita esclusivamente il martedì e il venerdì, esclusi comunque i festivi e i prefestivi, mentre è sempre consentita a domicilio nel rispetto delle regole. Permesse inoltre una volta al giorno un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici, poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, possibile infine l'attività motoria individuale nelle vicinanze della propria abitazione. Il mondo sindacale vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione in ogni azienda a chiederlo con una lettera inviata ai prefetti di Potenza e Matera sono CGL e Cislewil. I dettagli da Lucia Pietrafesa. Garantire il diritto alla salute e la serenità dei lavoratori in vista della progressiva ripresa delle attività produttive. A chiederlo i segretari generali di CGL Cislewil, Summa, Gambardella e Tortorelli in una lettera inviata ai prefetti di Potenza e Matera. Nello specifico le sigle sindacali chiedono di predisporre un'adeguata azione di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di istituire un apposito tavolo di monitoraggio. Per Summa, Gambardella e Tortorelli andrà valutata l'effettiva consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e la sanificazione continua di tutti gli ambienti di lavoro. Un'azione da intraprendere subito per rimettere in moto il sistema produttivo in condizioni di massima sicurezza attraverso un sistema di vigilanza capillare in grado di segnalare e correggere in tempo reale eventuali situazioni anomale perché prima di tutto viene la sicurezza di chi lavora. Gli esperti ci dicono che per un periodo non breve dovremo convivere con il virus adottando nuovi stili di vita e nuove modalità organizzative in campo lavorativo e la realizzabilità di tutto ciò concludono CGL Cislewil dipende in larga parte dalla capacità delle istituzioni di monitorare rispetto delle regole collaborando con la rete dei rappresentanti dei lavoratori e con le organizzazioni sindacali. Ora invece parliamo delle varie iniziative che l'arma dei carabinieri ha messo in campo in questo delicato periodo. Tra queste c'è la recente convenzione con poste italiane, accordo grazie al quale tutti i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni, i quali percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e riscuotono la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro a domicilio delegando a ritiro appunto i carabinieri. Il progetto è rivolto a ben 23 mila pensionati per tutta la durata del fenomeno epidemico e in tale ottica hanno agito i carabinieri di Latronico, come vediamo da queste immagini, avendo ricevuto telefonicamente la richiesta di aiuto di una 91enne del luogo che non gode di ottima salute. Il maresciallo Mauro Antinolfi e un suo militare, esaudendo prontamente il desiderio dell'anziana, si sono recati all'ufficio postale del paese con la delega da lei sottoscritta, ritirando per suo conto il denaro e consegnandolo in busta chiusa all'interessata presso la sua abitazione dove la donna ha manifestato gratitudine ai due carabinieri. Bene, adesso ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco con tutto il resto del notiziario. La moda, lo stile e il buon gusto sono un modo per prenderci cura di noi stessi, ora per volerci davvero bene, dobbiamo rimanere a casa. Rimaniamo a casa, Redford. Seconda parte della nuova TG, dopo essere stata tra le prime regioni a toccare il contagio zero, secondo uno studio americano, la Basilicata tra una settimana vedrà interrompersi anche la drammatica sequenza di decessi legati al coronavirus. Ci spiega perché Fabrizio Di Vito. Dopo essere stata insieme a Umbria e Molise la prima regione a toccare il contagio zero, la Basilicata potrebbe essere anche una delle prime zone d'Italia a vedere interrompere la drammatica sequenza di decessi legati al coronavirus. Un obiettivo che, secondo le stime dell'Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute della Facoltà di Medicina dell'Università di Washington, potrebbe essere raggiunto già tra una settimana, il 23 aprile. Per quanto riguarda il numero massimo di decessi, invece, lo studio fissa il limite a 34. Al momento sono 23 le vittime lucane del virus, con una preoccupante impennata registrata negli ultimi giorni. Di certo, nelle ultime due settimane, a livello nazionale, la pressione sugli ospedali è nettamente calata. In Basilicata, invece, il numero di malati di coronavirus costretti alle cure ospedaliere è sostanzialmente stabile e si aggira da settimane intorno alle 70 unità. Sulla necessità di posti letto legati all'emergenza Covid-19, lo studio statunitense aveva fatto proiezioni decisamente ottimistiche, ipotizzando un'esigenza massima di una cinquantina di posti letto. Entro il prossimo 5 maggio, però sempre secondo il modello americano, dovrebbe azzerarsi la necessità di posti letto legati al coronavirus. Molto più probabile, vista l'attuale situazione, che il termine possa slittare di qualche settimana in avanti. Il primo maggio, invece, sempre secondo le proiezioni scientifico-statistiche dell'Istituto americano, in Basilicata non ci saranno più pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ovviamente la speranza di tutti è che i 10 pazienti rucani che attualmente si trovano in gravi condizioni riescano presto a vincere la loro battaglia contro questo pericoloso e invisibile nemico con cui ormai siamo costretti a fare i conti da quasi due mesi. Arriva dal gruppo consigliare di minoranza Paese Ideale di Castelluccio Inferiore la richiesta ai vertici delle società San Benedetto e alla F2I che gestiscono rispettivamente lo stabilimento Fonti del Pollino di Vigianello e la centrale a Biomasse del Mercure per dotare i cittadini di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Vigianello e Lauria di mascherine chirurgiche e gel igienizzante. Si chiede in via prioritaria alle due realtà produttive più importanti della valle di dotarne le persone sopra i 65 anni con patologie preesistenti o immunodepresse e agli emodializzati. Un kit che come spiegano i consiglieri Giordano, Alaggio e Carlo Magno sarà quanto mai necessario insieme alle misure di distanziamento sociale, ancor di più quando partirà la fase 2. E l'emergenza sanitaria di queste settimane mette a rischio anche la campagna del pomodoro nell'Alto Bradano e a lanciare l'allarme la col diretti di Basilicata. Intanto l'associazione è presente a una piattaforma per incrociare domanda e offerta di lavoro. Ce ne parla Mara Ricciola. E a rischio la campagna del pomodoro nell'Alto Bradano. A lanciare l'allarme col diretti Basilicata che sottolinea le difficoltà dovute al coronavirus nel reperimento della mano d'opera, soprattutto straniera, necessaria alle operazioni di piantumazione. E per questo in Basilicata, come nel resto d'Italia, l'associazione ha varato la banca dati Job in Country, accessibile sul sito col diretti.it, autorizzata dal Ministero del Lavoro con le aziende agricole che assumono. La situazione straordinaria legata all'emergenza Covid, avendo fatto venire meno la disponibilità di gran parte dei lavoratori stranieri, ha portato la col diretti a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per facilitare l'incontro tra aziende e lavoratori, afferma il presidente regionale, Antonio Pessolani. Job in Country assolve a questo compito, una piattaforma informatica di incrocio domande e offerta di lavoro, che opera attraverso un apposito sito web nazionale, in grado di acquisire, archiviare e rendere disponibili in forma pubblica tanto le richieste di mano d'opera delle imprese che i curriculum e le disponibilità dei lavoratori. Il progetto è stato avviato, sottolinea col diretti Basilicata, in attesa che dal governo regionale arrivi una risposta rispetto all'apertura, previo adeguamento delle norme sanitarie Covid-19, di uno dei centri di accoglienza presenti sul territorio e già utilizzate nelle campagne agrarie precedenti. E dal Parlamento arrivi una radicale semplificazione del voucher agricolo, che possa consentire la continuità dei lavori nelle campagne dove mancano i braccianti extracomunitari, non residenti nell'area dell'altro bradano, ma regolari, che generalmente venivano occupati per la coltivazione del pomodoro. Assegnare agli allevatori lucani una coppia di cuccioli di cane da pastore maremmano abruzzese per la guardia e la protezione del bestiame. È il progetto Un cane per un lupo dell'Ara, l'associazione regionale allevatori di Basilicata, realizzato in collaborazione con la regione e con il supporto dell'ente nazionale cinofilia italiana, oltre che del circolo del pastore maremmano abruzzese. Una decina ha i cani già distribuiti tra i titolari delle aziende zootecniche lucane, nell'ambito di un'azione che prevederà entro pochi anni l'assegnazione di alcune centinaia di cani agli allevatori. E passiamo allo sport con il ciclismo che sposta le date del calendario. Ecco allora come potrebbero cambiare i programmi del lucano Domenico Pozzovivo. Ce ne parla Luigi Santopietro. La gloria del Tour de France spostata alla fine dell'estate, quando i tramonti iniziano a diventare malinconici, la magia del Giro d'Italia rinviata al periodo romantico e decadente delle foglie morte. L'effetto coronavirus continua a tenere sospeso il mondo dello sport e mentre basket e volley hanno rinunciato a chiudere la stagione, il calcio resta in attesa e il ciclismo invece prova a riorganizzarsi spostando il più possibile il calendario. Per gli appassionati sono queste le nuove date da segnare in rubrica. 29 agosto, 20 settembre per il Tour, poi i mondiali e infine start del Giro il 3 ottobre. E la questione riguarda da vicino anche il nostro Domenico Pozzovivo. Da quest'anno in forza la squadra sud-africana della NTT e che sta provando ad accelerare i tempi di recupero dopo il brutto infortunio dell'agosto scorso e che potrebbe giovare di questi spostamenti della stagione agonistica. Nei programmi precedenti all'esplosione della pandemia lo scalatore di Montalbano ancora in fase di convalescenza avrebbe saltato il Giro che arrivava troppo presto ma non il Tour dove avrebbe corso da battitore libero senza obblighi di classifica e a caccia di tappe. Ora però il rimescolamento del calendario mette tutto in discussione e non è esclusa a questo punto una partecipazione all'amata Corsa Rosa nella quale potrebbe addirittura correre da protagonista come sempre è accaduto nelle ultime edizioni. Intanto il green pair Lucano dovrà sottoporsi appena sarà possibile a una nuova operazione per la rimozione dalla tibia di chiodi, placche e fili considerando che anche la funzionalità di braccio e gomito non sono ancora al top. Ma ora il tempo è dalla parte del Lucano che potrà preparare con più calma questa stagione buttando anche un occhio a quella del 2021 dove potrà coltivare il sogno di una partecipazione olimpica. Fine una notizia di cronaca scoperte a svolgere attività fisica all'interno del Palasassi di Matera nell'ambito dei controlli per il rispetto delle prescrizioni sull'emergenza coronavirus. Sette persone in tenuta ginnica sono state identificate dalla polizia che ha notificato loro sanzioni amministrative. Gli agenti sono intervenuti nella struttura sportiva di Via delle Nazioni Unite dopo le segnalazioni pervenute da alcuni cittadini. E con questo termina qui questa edizione della nuova TG. Io vi lascio alle previsioni meteo e vi rimando per ulteriori aggiornamenti all'edizione del 19. A voi tutti un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.